Io invito qui Angelo Pepetti di Abbi, l'associazione delle banche, vediamo dov'è, eccolo qui. Eccolo qui Angelo. Arriva anche lui, come dire, spesso e volentieri, presente agli appuntamenti di Fiaip. Beh Angelo, poi peraltro, è anche un amico e abbiamo, ti do il palco dal podio, è un amico, ma abbiamo firmato anche due settimane fa un importante accordo insieme a tante altre associazioni, abbiamo fatto formazione con Abbi Formazione, qualche volta andiamo d'accordo, qualche volta meno, ma sempre guardandoci negli occhi e cercando sempre di migliorare il mercato e di essere vicini ai consumatori. Io ti ringrazio, peraltro non è la prima volta che affermo che per quanto riguarda la associazione bancaria italiana, la Fiaip ha un ruolo importante, abbiamo fatto tantissime cose insieme, documenti ufficiali insieme, abbiamo costituito insieme, lo possiamo dire, con difficoltà anche nella fase di start up, l'organismo degli agenti mediatori, cioè abbiamo lavorato sentendoci di notte e la sera insieme anche a Samuele, che aveva in quell'epoca un altro ruolo nell'ambito della federazione degli agenti. E continuiamo a farlo, ha fatto bene a ricordare questa iniziativa che abbiamo avviato insieme recentemente e che a breve porterà un documento, anche in questo caso congiunto, su tema della valorizzazione degli immobili che sono a garanzia dei crediti che noi definiamo anomali. tra l'altro a breve saremo coinvolti tutti insieme proprio da Banca d'Italia a sottolineare l'importanza che anche l'autorità ha in questa partnership. Per quanto riguarda i momenti di non particolare distensione, ci siamo sentiti, io ti ho anche detto stai sereno, tu non hai capito bene. Ma per il resto è corretto quello che diceva e concludo Marco Taranto la prima, noi siamo probabilmente lavoratori differenti ma su una stessa barca in un mare purtroppo in tempesta. O lavoriamo insieme e collaboriamo, ognuno con il suo ruolo, o insieme affondiamo. Quindi penso che abbiamo scelto la prima opzione insomma. Grazie a te per l'invito. Grazie, grazie.